Crostata di Halloween a forma di mummia. Benvenuti nel canale di Tavola Serena, oggi andiamo a preparare insieme questo dolce davvero delizioso. Per fare questa crostata utilizzo come base la mia pasta frolla all'olio che trovate nell'ultimo video pubblicato qui sul canale. Vi lascio comunque sotto nel box informazioni il link. Ricapitolando brevemente, vanno a sostituire il burro con olio di girasole e un piccolo goccio di latte e l'ingrediente segreto la farina di riso. Una piccola percentuale di questa farina darà una consistenza a questa frolla fantastica, credetemi, da provare. È il trucco che usa mia mamma. Vado poi ad aggiungere la farina 00, anche in questo caso è sempre meglio utilizzare una farina specifica per dolci e poi ottengo, lavorando velocemente, un bel panetto che posso lasciar riposare per circa 30 minuti e sarebbe l'ideale, oppure se come me siete di corsa stendo direttamente. Prendo due terzi dell'impasto e vado a stendere con le mani sul fondo del mio stampo. Il mio è uno stampo da 25x20 cm. Vado direttamente con le mani perché appunto è una pasta frolla molto malleabile e lavorabile. Cerco di ricavare dei bordi belli alti su cui andrò a mettere la confettura di frutti di bosco. Potete anche scegliere altri tipi di confettura ovviamente, però questa è perfetta proprio per il suo colore. Vi confesso che io non amo moltissimo Halloween, però questo dolce l'ho fatto per far felici i miei bambini. Vado a distribuire per bene tutta la marmellata, dopodiché prendo l'impasto che avevo lasciato da parte e lo vado a stendere sul piano da lavoro infarinando bene sia sopra che sotto. È facilissimo da stendere perché è molto malleabile appunto questa pasta frolla e delicatamente vado a ricavare un rettangolo. Il rettangolo che devo ottenere deve essere almeno per un lato lungo quanto lo stampo che ho scelto. Stendo poi anche sull'altro lato fino ad ottenere un bel rettangolo possibilmente più pari possibile. Andremo infatti poi a ricavare delle striscioline. Io vado a rimuovere le parti diciamo di scarto attorno, le parti non proprio tagliate correttamente che mi serviranno poi per fare gli occhietti delle mummie e poi vado a ricavare tante striscioline abbastanza sottini. Le trasferisco sulla crostata senza un ordine preciso anche in modo molto casuale e impreciso proprio. Infatti questa è l'unica diciamo cosa che mi fa apprezzare questa torta perché in un attimo si fa e non serve precisione. Anzi meno si è precisi meglio è. Si ricavano degli occhietti semplicemente arrotolando l'impasto avanzato nelle palline e poi schiacciando nel centro in cui andremo a posizionare un pezzettino di cioccolato o del cioccolato fondente fuso come nel mio caso della nutella. Regoliamo i bordi e poi cuociamo in forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 25 minuti e questo una volta che la torta è raffreddata è il risultato. È davvero una torta facile da fare, i bambini si divertiranno sicuramente tanto e avranno una merenda deliziosa. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti. Qui vi lascio un'altra ricetta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!